Gentili telespettatori, buona giornata. Avevano detto che un carabiniere ha confessato di aver girato il video, come se fosse una roba grave, ha confessato di aver girato il video dove si vede la giudice apostolico che è lì alla testa della manifestazione contro la polizia e contro il governo. Ma è venuta fuori sta notizia, un carabiniere dice di averlo fatto lui e poi dice non l'ho girato io. In che senso qualcuno gli ha detto hai fatto male, di che non sei stato tu, è inutile dire che sei stato tu. Nessuno può obbligare la polizia, i carabinieri o i parlamentari a dire da dove arriva un video. Visto che il video non comporta nessuna violazione di legge, perché è un video fatto in una manifestazione pubblica che non è stato depositato agli atti né di polizia, né di carabinieri, né di guardia di finanza, ecc, 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 ecc. Infatti Salvini dice ma non importa chi l'ha fatto, l'importante è il contenuto, il giudice alla testa delle truppe vittoriose contro la polizia, chi se ne frega chi l'ha fatto, il punto non è chi ha fatto il video, il punto è quello che si vede nel video. E così, i provvedimenti, come vi dicevo, mentre il tribunale civile continua a picconare le decisioni della questura di Regusa e del governo, ve lo racconterò nel video successivo quello che è successo, in una stanza della procura siciliana veniva interrogato il carabiniere, con la luce parla, indicato come l'autore del video, che immortala l'apostolico a una manifestazione di protesta per pro-migranti, contro-groverno e polizia, dove lei era davanti a tutti, che guardava la polizia, li guardava, poi faceva due passi e tornava a guardarli fissi, una scenetta di una tristezza, ma insomma, il mondo è pieno di tristezze, e vabbè, ognuno vede la tristezza dove la vede. Comunque, le immagini sono state postate dal leader della Lega poche ore dopo, si dice così, immagini postate, quando tu le carichi su un tuo profilo social, stai postando un video, e si dice così, cosa vi devo dire? Ma non era meglio star caricato un video? No, ha postato un video, si dice così. Quindi le immagini sono state postate dal leader della Lega poche ore dopo, la bocciatura dei primi trattenimenti da parte dell'apostolico. Dice, non l'ho girato io, ha detto il militare sentito come persona informata sui fatti, per oltre 90 minuti. Caspita, per 90 minuti ha detto non sono stato io, non sono stato io, non sono stato io. No, non credo che per 90 minuti abbia ripetuto non sono stato io. E viene sentito dal procuratore Agata Santonocito. Insomma, visto com'è l'andazzo, visto come va in Italia, un carabiniere che dice sono stato io, insomma, per come stanno andando le cose non è propriamente consigliabile dire sono stato io. Eh, insomma, capitemi un po', mettetevi nei suoi panni, dice. Se dico che sono stato io, dicono che sono pappa e ciccia con Salvini, e divento come Salvini, quello è a processo, e mi chiedono l'ergastolo per aver messo un video. Quindi dico che sono stato io, ma chi ve l'ha detto che sono stato io? Ma cosa state dicendo? Ma siete fuori come dei balconi. Beh, così dice, non l'ho girato io, per 90 minuti. E' come se il giallo sul regista del video, no? Il fellini delle manifestazioni non fosse già abbastanza complicato. Ha anche smentito di aver mai affermato il contrario di aver poi ritrattato. Lui dice, ma io non l'ho mai detto, quindi non ho neanche ritrattato. Come dire, ma cosa volete da me? Io non ho detto che ho dato il video a qualcuno, che l'ho fatto girare, e poi non ho neanche smentito perché non ho mai detto di essere stato io. Da dove nasce quindi il coinvolgimento del sottoufficiale nella vicenda? Il test ha provato a spiegarlo, dicendo proprio così. Eravamo quattro amici al bar. Perché lui dice, eravamo al bar. Eravamo al bar con alcuni colleghi. Conoscendo la mia amicizia con il luogotenente dell'arma in congedo, Anastasio Carrà, il sindaco di Motta, Santa Anastasia, e deputato della Lega che ha riconosciuto per primo il giudice apostolico nel video, mi hanno invitato scherzando ad ammettere che fosse mio. Di fronte alle insistenze dei colleghi, il militare avrebbe detto qualcosa come va bene, come dite voi. Parole interpretate come un'ammissione da uno dei presenti che avrebbe raccontato tutto ai superiori. Hai capito? O spiona! La classica spia che c'è dappertutto. E' uspiona. Di solito questi sono gli invidiosi, i rancorosi, quelli che odiano gli altri, quelli che ci godono a mettere... Allora lui ascolta e poi va a spifferare tutto ai superiori. In ogni posto di lavoro c'è il... Come si dice quelli che vanno slap slap dai superiori a dire io ti dico chi è stato, no? Beh, non ci si fa poi propriamente una bella figura, eh? Chi va a fare, diciamo, a cantare, non è che poi ci faccia proprio questa bella figura, eh? No. Perché chi ascolta la cantata dice oggi lo fa a quello, domani lo fa a me. Quindi la spia oggi lo fa a quello e domani può farlo anche a me. Quindi la spia poi viene comunque reputata in un certo modo, però uspiona sempre ci sarà al mondo, in tutti i contesti e in tutte le situazioni. Comunque lo spione va dal superiore a dire questa cosa. Ma attenzione! Poi il superiore lo dice a un altro superiore. E quindi o spione, poi c'è altro spione, o altro spione, e finisce a qualche orecchio importante. Del caso è tornato a parlare anche Salvini. Dice Chi mi ha dato il video? Dice in conferenza stampa a Palermo. L'unica mia preoccupazione è quello che si vede. Ognuno nella sua vita privata fa quello che vuole. Ma aver visto un giudice in piazza, in mezzo a gente che dava degli assassini animali ai poliziotti, non mi lascia tranquillo. La riforma della giustizia serve e va fatta coi magistrati a prescindere dal caso di Catania. Perché molti imprenditori stranieri la aspettano per venire a investire in Italia. Grazie a tutti e arrivederci a presto.